Momenti di tensione durante il Consiglio regionale Lombardo dove è stato approvato oggi il progetto di legge per la valorizzazione della cultura e della tradizione dello spiedo bresciano. Da un lato la Giunta insieme a 40 sindaci bresciani, dall'altro l'opposizione del Movimento 5 Stelle che si è presentata in aula con cartelli di protesta. Oggi si parla di concedere un'attività che per legge statale è pietata, cioè la commercializzazione di avifauna, oggetto di caccia, di attività venatoria, non è commercializzabile. Questo lo dice la legge nazionale e lo dice la comunità europea. Sarà anche oggetto di probabile e quasi certa infrazione comunitaria. Tra queste specialità di selvaggina, come vengono definite per usare la terminologia utilizzata dalla proposta di legge, interessano il cosiddetto spiedo lombardo, ci sono alcune specie che sono non cacciabili, come ad esempio fringuelli, peppole e prispoloni. Oltre al rischio dal punto di vista sanitario, visto che con questa procedura 45.000 tonnellate di carne verrebbero distribuite negli esercizi pubblici senza alcun controllo sanitario ogni anno, le scelte ritenute non etiche già in passato hanno portato la Commissione europea ad aprire una procedura pilot nei confronti dell'Italia. Alcune di queste sentenze della Commissione europea hanno già chiarito chiaramente che, soffermandoci un momento sul rapporto tra tradizione e tutela dell'ambiente, rammentano che questa giusta e ormai consolidata gerarchia posta in merito dalle massime autorità dei diritti comunitarie, secondo cui le tradizioni che dovessero impattare sulla tutela dell'ambiente vanno semplicemente mutate. Polemica, infine, perché il Consiglio regionale sarebbe stato convocato esclusivamente per parlare dello spido bresciano e non di altre rilevanti tematiche, quali siccità, problemi ambientali, carobollette, carenza di medici. Abbiamo il problema dell'approvvigionamento energetico e del caro dei materiali, non abbiamo nulla di cui parlare se non dello spido bresciano. La cosa a noi risulta assurda.